Ciao a tutti ragazzi, sono Gmet e bentornati su Terraria Prima di iniziare voglio ringraziarvi tantissimo per il video delle rarità Ragazzi, vi è piaciuto tantissimo Ho visto molte persone che mi hanno ringraziato perché non sapevano queste cose e serviva un video del genere Quando riesco ad aiutare qualcuno in questo modo, con un semplice video Che è solo un video ragazzi, non è altro È qualcosa di fantastico, ve lo giuro, mi piace tantissimo Quindi davvero grazie per questo supporto State diventando tantissimi e la community sta crescendo in una maniera assurda E quindi vi ringrazio ragazzi, vi ringrazio Comunque ragazzi, ora torniamo su Terraria Oggi abbiamo vari motivi per creare un altro mondo Avete sentito bene, creeremo un altro mondo Ovviamente non per costruire ciò che del genere Solamente per andare lì e vedere delle cose che purtroppo in questo mondo non abbiamo Vi spiegherò tutto piano piano durante l'episodio Quindi mi raccomando ragazzi, seguitelo tutto Ora ci vediamo direttamente in un altro mondo Ok ragazzi, ci siamo Sta già iniziando un po' a nevicare E questo mi piace molto perché vuol dire che abbiamo il bioma innevato molto vicino Quindi ragazzi, dobbiamo cercare questo bioma Sì, eccolo qua E già intravediamo qualcosa ragazzi Guardate, questo non è lo sfondo del bioma innevato E lo sfondo del bioma glaciale Ebbene sì ragazzi, questo è un biome nuovo Nuovo per modo di dire È stato già entrato precedentemente nella tremor mode Oddio Che cos'era? Quando io ho creato il mondo non avevo ancora la tremor installata E quindi non mi ha generato neanche questo pezzo E siccome volevo assolutamente mostrarvelo perché è fighissimo Ho creato appunto questo nuovo mondo Ragazzi, queste chest funzionano in un modo diverso da quelle che conoscete Ci vogliono delle particolari chiavi che si craftano uccidendo mob Più o meno ho capito il funzionamento Come vedete qua è tappato Abbiamo anche la corruzione vicino Wow Proviamo a prendere questo legno abbastanza particolare Vediamo un po' Oddio, ecco un nemico Shottato, va bene Si chiama Glacier Hood Glacier vuol dire appunto ghiacciaio E questo è un enorme ghiacciaio Siccome il ghiaccio è abbastanza trasparente Ecco un nuovo nemico Filtra bene la luce Quindi ha molto senso questa cosa E' davvero fighissimo Comunque Prendiamo anche questo Si chiama Icicle Dove la guida quando serve Dobbiamo tornare un attimo indietro Così vediamo un attimo come si fa la chiave Ecco qui Come si faceva? Non ricordo ragazzi Non ricordo proprio Comunque ragazzi Per aprire queste chest Dobbiamo uccidere un nemico che si chiama Cold Trap Non so se si trova nelle profondità Ora controlliamo raga Controlliamo un attimo Che è fighissimo Oh mio dio Lo vedete anche voi questo? Lo vedete? Lo Lo state vedendo anche voi? Che Che cazzo è? No, magari despauna se passo di lì Oh mio dio Andiamo subito a vedere raga Mio dio E' proprio quello che dobbiamo uccidere Però cavolo Così Morti Shotati Erano stranissimi raga Allungavano questi tentacoli All'inizio erano Troppo grossi Minacciosi Alla fine erano delle pippette Ma non fa niente Tanto ne spawneranno altri Molto probabilmente Dato che ci serve Aprire quelle le cesti Io voglio Ho sentito qualcosa Era un vichingo Va bene Qua c'è il bioma ghiacciato Saliamo su di nuovo Nel bioma glaciale Ragazzi Finalmente Ne è spawnata un'altra Oddio No è già morta Va bene Perché davvero ha poca vita Però non mi droppa questa chiave Ragazzi Se non ero al 33% Di possibilità di spawnare Di droppare la chiave Però non lo fa Per questo motivo Ora Ci piazzeremo Qualche water candle Che aumenta lo spawn Dei mob Molto importante Mi piace un sacco Questo bioma ragazzi E la musica È davvero fantastica Ragazzi La musica È qualcosa Di bellissimo Ora purtroppo Io non la posso sentire Perché io Registro senza musica E le metto dopo Per questo non ho magari Subito una reaction Forse ho fatto anche un po' male Però io l'ho già ascoltata Comunque la metterò Ovviamente Voi la potete sentire Ragazzi Non mi hanno ancora droppato Nessuna chiave Però in compenso Mi hanno droppato Questo Frostex Che è un oggetto equipaggiabile Che ci aumenta del 10% Il danno melee È ranged Davvero figo Comunque ragazzi Non posso rimanere qua A perdere 20.000 ore Quindi magari Lo facciamo Dopo Ecco una Devi dropparmi No raga È una cosa assurda Non mi vogliono droppare Questa chiave Non è possibile Eppure c'è il 33% Di possibilità Normalmente Avrebbero già dovuto Droppare Da molto tempo Quindi O è buggato Oppure non Ne ho la più palida idea Comunque sia Ragazzi Vediamo un attimo Gli oggetti Che ci sono per terra Non si sa mai Che ne abbia ucciso qualcuno No Niente chiave Raga Niente chiave Va bene Ecco una Ice key Quale apriamo Questa mi piace di più E c'è un altro Di questi tipi Muori Niente chiave No chiave No party Comunque Apriamo Questa chest Oh raga Raga Frost guardian 4 difesa Dà immunità A tutti I debuff Frost Quindi non ci becchiamo Neanche il frost burn Praticamente nulla In più aumenta del 5% Il danno melee E la speed E' un oggetto fantastico Raga Frost liquid flasche Da lanciare No Non ci credo Raga E' fighissimo Poi 12 ori Dai 12 ori E' una cosa assurda Ok che all'inizio Dovrebbe essere abbastanza difficile Questo bioma Però E questi rimangono a fare danno Ma è fortissimo Ok ecco un nemico Boom Mamma mia E' fortissimo All'inizio del gioco Una roba del genere Comunque ragazzi Ora dobbiamo recarci In un altro bioma Che credo sapiate già Come si chiama Aquatic depth Avrete sicuramente già immaginato Dove volevo andare Perché ci serve Una speciale pietra Che si trova Nelle profondità marine Si chiama Rain stone E ci serve per far piovere Mi serve sia per utilizzarla subito Dato che devo fare Una cosa urgente E può esserci utile Anche per il resto Dell'avventura Per questo motivo Ho portato come la Neptune's shell Quindi ragazzi Ora Spero che sia Da questo lato Così facciamo prima Vediamo un po' No raga Guardate questo tempio Che bello Ho scoperto un seed Che genera questa roba Ma è stranissimo Ma Wow Cioè Ok Qua abbiamo un albero Così a caso Alla fine del mondo Va benissimo Tagliamo tutto E siamo arrivati Ci dovrebbe essere Un buco in mezzo All'oceano No No raga Sono dall'altra parte Quindi Andiamo Ok ragazzi Dovremmo esserci Guardate come si è generato In modo strano qui Mamma mia Questo mondo È tutto strano Ok Vediamo un po' Dovrebbero essere Qua in basso Ecco qui raga Ecco qui Ecco qui Facciamoci la nostra Neptune's shell Magari a posto di questo Ecco qui Ecco qui Raga Già vediamo le prime cose Qua c'è addirittura Un cuore Cerchiamo di illuminare bene Ok Una mega medusa Man Man o war Va bene Comunque sia Questo è gold Davvero È stranissimo Ha un pattern diverso Comunque ragazzi Non ho idea di dove si trova Questa fantomatica Rainstone Quindi Non so Non so Sarà difficile Comunque Cos'è questa roba Non è che se la spacco Mi arriva un boss enorme Water chestnut Ah cos'è un frutto del mare Ora siamo su one piece Barracuda Ok Una specie di gemello Della rapagna Che fa male Lo stesso Questa è una chest Questa è una chest raga Questa è dalla bard class Aquamarine Wine class Ehm Figo Marine Kelp seat Ok Questo è nuovo Ce lo prendiamo Prendiamoci solo le cose indispensabili Perché altrimenti non abbiamo spazio Nell'inventario Continuiamo a cercare Ecco un'altra chest Dovrebbe essere qui La rainstone In una di queste Illuminiamo un po' Anche qua verso il basso Ok Perfetto Andiamo ad aprire questa chest E abbiamo un altro Ehm Aquamarine Wine glass Non ce ne facciamo Niente Qua abbiamo solamente un cuore Possiamo anche prenderlo Guardate come è fatto l'altare Tra virgolette Del cuoricino Ci sono delle normali pietre E uno sfondo diverso Bello Davvero Fighissimo Ecco qui raga Un'altra Ehm Chest Oh Oh Ma che cazzo era Mi ha spaventato tantissimo Raga E' una cosa Mio dio Era orribile Spero non mi capiti più Eccola qui raga Rainstone Fantastico raga Ci serviva Ora possiamo anche tornare indietro Tanto abbiamo anche finito Quasi l'aquatic depth Praticamente Avevo spavolato Quasi tutto Le aquatic depth sono larghe circa così Quindi la maggior parte Comunque abbiamo preso questo oggetto Che ci interessava tantissimo Anzi facciamo piovere dai Vediamo un po' Ecco qui raga Bellissimo In più ragazzi Se la riusiamo Possiamo far smettere di piove E anche questa è una cosa Che mi ha portato assolutamente A cercarla E' fantastico Vedrò un po' questi crafting In off camera E poi ve li spiegherò Magari nel prossimo episodio Velocemente Comunque ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è stato così Lasciate un like E commentate Da Gmete è tutto Ci vediamo al prossimo video E ciao a tutti